buongiorno buongiorno che ne pensate di questa giornata ecologica allora è stata una giornata molto proficua ringrazio soprattutto il sindaco all'assessore Antonio Federico e a Marco Pacifico delegato delle periferie e faccio un appello a tutti i cittadini di Mondragone, Castelvolturno e Pesco Pagano di gettare i propri rifiuti negli appositi cassonetti e non nelle terre di fronte alla propria casa perché si era buttato di fronte alla propria età grazie vi aspettiamo tutti a Pesco Pagano per un grande evento siete favorevoli a queste giornate che ha organizzato l'amministrazione comunale sì come no perfetto anzi deve continuare questa situazione non deve finire qui che cosa ne pensate di questi primi mesi di questa nuova amministrazione ottimo si sta muovendo qualcosa finalmente era anche una grazie grazie